La grotta Pocala Per raggiungere la grotta Pocala si deve prendere il sentiero che da Aurisina porta verso il cimitero militare austro-ungarico, fino al grande cavalcavia ferroviario. Da qui si stacca un sentiero che conduce a una cava di calcite, dove si trova l'ingresso della grotta, ora chiuso da un portone. Un tempo la grotta era chiamata Caverna del Campo Rosso, mentre ora è più conosciuta come Pocala, dal toponimo locale Podcalam, che significa ai piedi delle rocce. Dai 125 metri di lunghezza sono emersi gli ossi appartenuti a un numero importante di orsi delle caverne. E' stata la prima grotta a fornire tracce di presenza dell'uomo nella regione in un periodo così antico come il Paleolitico Medio.